Ben trovati, ben trovati a tutti voi che generosamente seguite questo canale YouTube. Come state? Prima domanda, è un po' di tempo che non pubblico video, me ne scuso, sono stato un pochettino indaffarato, ma non vi preoccupate perché nei prossimi giorni usciranno nuovi video tutorial che riguardano sia Premiere, e qui ci sono delle novità molto interessanti di cui vi parlerò meglio appunto nei prossimi video, sia l'informatica, perché sto preparando una serie dedicata non a come si utilizza un computer, ma ad alcune applicazioni che è bene conoscere per semplificarci la vita quando lavoriamo appunto davanti a un computer. Poi la novità più importante di tutte, ed è anche una richiesta la mia di supporto da parte vostra, che riguarda una serie televisiva che abbiamo prodotto con degli amici riguardante i fantasmi, le indagini paranormali, le cosiddette anomalie, che sarà pubblicata qui su YouTube a partire dal prossimo 27 aprile 2022, alle ore 21 per la precisione. È una serie appunto chiamata Anomalie l'Italia occulta, ne ho già parlato in altri video, sarà disponibile dal 27 aprile e inizieremo alle ore 21 con una diretta live, non su questo canale YouTube, però attenzione, sul canale YouTube della serie che si chiama Anomalie l'Italia occulta, trovate il link qui nei commenti. Perché è una serie carriera? Intanto perché non esiste una serie italiana dedicata ai ghost hunters, ovvero a gruppi di persone che vanno nei castelli, nei borghi medievali, anche in abitazioni private, in isole, a verificare se le voci, i racconti, le leggende sulla presenza di eventuali fantasmi sono vere o sono false. Abbiamo seguito le indagini paranormali del GIAP, gruppo investigativo Attività Paranormali, abbiamo realizzato sei puntate, secondo me carine, non vi aspettate di vedere un documentario scientifico sul paranormale, ok? Perché chiaramente è principalmente una serie che ha lo scopo di farci passare 50 minuti, che è la durata di ogni episodio, in maniera un po' più spensierata. Però comunque questi ragazzi che abbiamo seguito sono persone molto serie, che fanno il loro, non lavoro, che seguono la loro passione in maniera ovviamente gratuita. Se vi fa piacere l'appuntamento è per mercoledì sera, alle ore 21, sul canale ufficiale di Anomalie l'Italia Occulta, trovate ancora una volta il link in descrizione. Vi prego, registratevi anche a quel canale YouTube, condividetelo e aiutatemi a farlo crescere un pochettino, perché ancora abbiamo pochi follower, essendo appunto un progetto relativamente nuovo, almeno su YouTube. Ci vediamo molto presto per altri video tutorial, continuate a sostenermi sul sito internet www.fabbiambrosi.it, sulla mia pagina Facebook, sulla mia pagina Instagram, se vi fa piacere. Presto aprirò anche un account TikTok, lo dico per quelli che ve lo chiedono, prima o poi lo farò, prometto. E ovviamente consigliate questo canale YouTube ai vostri amici che amano avere a che fare con i video, ma anche con l'informatica e con tutti gli argomenti che trattiamo su questo canale. Grazie, grazie, grazie e buon proseguimento di giornata. Alla prossima, ciao!